Benvenuti al Campania Teatro Festival diretto da Ruggero Cappuccio. Questo festival è stato programmato e finanziato dalla Regione Campania. La saggezza, diceva Baudelaire, consiste nel saper popolare la propria solitudine e nel sapersi isolare tra la folla. E se non vuoi interrompere l'abbraccio con l'incantesimo, spegni il tuo telefonino. Vi ricordiamo che alcuni spettacoli del Campania Teatro Festival sono disponibili in live streaming sulla piattaforma Ecosistema Digitale per la Cultura della Regione Campania, sui canali radio e video di CRC e su live.campaniateatrofestival.it. Per tutte le informazioni visita www.campaniateatrofestival.it www.campaniateatrofestival.it.it 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 www.campaniateatrofestival.it 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 Grazie a tutti. 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 a tutti.